Ma quanti orsi polari servono per battere un weeder? Andiamo a scoprirlo! Ma prima di iniziare, come al solito, commenta qui sotto secondo te quanti ne servono per batterlo. Ma ora vediamo subito di partire con un 10v1. E ci siamo ragazzoli, è partito il primo match, tutti gli orsi polari sono stati attirati, l'hanno appena messo nell'angolino, però purtroppo ne stanno morendo troppi. Eh, infatti mi sa che non riescono a fare molto in questo round, eh. Gli hanno tolto più di un quarto di vita, ne rimane ancora uno. E il suo piccolino, però mi sa che stanno per schiattare tutte e due, infatti, sono volati. Vabbè, sinceramente un po' me l'aspettavo, ma vediamo adesso con 20 orsi polari. E ci siamo, boys, la chiazza bianca che vedete sono tutti orsi polari che stanno fightando contro il weeder. Però attenzione, il weeder è arrivato a metà vita. Ce la faranno a vincere? Non penso proprio. Tutti i bros si sono riattivati, vediamo se riescono a fare qualcos'altro. E mi sa proprio che è troppo tardi, eh già. Oh, però ragazzoli gli mancava solo un quarto di vita, eh. Mica male. E siamo partiti anche con l'ultimo round e il weeder è già a metà vita. Assurdo. Questa volta ragazzoli al weeder gli hanno fatto un danno assurdo, lo stanno sciogliendo. Oh mio Dio, ma sono fortissimi. Bella, boys.